salve a tutti ragazzi quattro parole di numero una risposta una domanda perché altro che cos'è il restyling li lo scritto in quella maniera credo che vada scritto con la prima in greca la seconda normale come vedete qui nello schermo restyling sarebbe praticamente una restaurazione una rigenerazione una revisione una rigenerazione di qualcosa che era peggio e va portato in una versione meglio tipo prendere un vecchio filmato ricontrollare la qualità della risoluzione grafica togliere i disturbi aumentare in tantino la risoluzione magari sia troppo lungo a tagliarlo in più pezzi per una migliore visione adattarlo alle nuove televisioni 21 noni o comunque 19 noni o quello che è perché 16 noni va sparendo e poi io ripresentarlo come una nuova versione di un filmato già passato già vecchio questo è un restyling ok un abbraccio a tutti da stefano buon pomeriggio che alla prossima ciao a tutti un abbraccio